erano ritornati a casa alle otto di sera dall'aver accompagnato alla stazione i due figliuoli che erano partiti per roma il maschio stabilitosi laggiù era venuto a prendere la sorella che la cognata aveva invitata per un lungo soggiorno di tutta la primavera nella capitale erano stati dei giorni lieti in compagnia dei due figliuoli in festa per il prossimo viaggio ora i due coniugi si trovavano un po' squilibrati tanto soli senza quei figliuoli che uniscono e dividono i genitori roberto sentì che la moglie aveva bisogno di conforto avevano ora finito di mangiare e roberto macchinalmente sarà seduto sulla sua poltrone dove passava di solito una mezz'ora col suo giornale poi vedendo che la moglie restava seduta incerta di quello che avrebbe dovuto fare lasciata improvvisamente tanto inerte dopo una giornata di lavoro intenso intorno ai bagagli della figliuola e in compagnia dei due giovani lasciò cadere il giornale sulle ginocchia e la guardò ecco che ora la sua compagna aveva bisogno della sua compagnia per la prima volta dopo tanto tempo la scopersa invecchiata i suoi capelli che erano stati biondi e che tutti ora vedevano quasi bianchi meno lui che continuava a vederci la luce che c'era stata era la parte della testa illuminata fortemente dalla lampada in alto meglio rivolta a lui quando le parlò essa lo guardò con un mite debole sorriso molto vecchia pensò con uno stringimento di cuore lui che era tanto più vecchio di lei anche la faccia bianca dal colore roseo sarà intonata altra volta ai capelli lucenti e neppure ora c'era stonazione perché sotto i capelli bianchi appariva più conforme la bianca faccia contusa dal tempo le linee meno pure il color roseo delle guance è divenuto meno esteso perché li vidito forche sulle guance propriamente dette nel suo sforzo di distrarla si fece molto chiacchierino e fu senza intenzione che gli finì col parlare di tutto il loro passato dai giorni in cui egli con tanto sforzo era riuscito a conquistarla lo condusse su quella via il bisogno di trovare un argomento essa stava a sentirlo subito interessata ne avevano parlato molte altre volte ma il passato è sempre nuovo come la vita procede esso si muta perché risalgono a galla delle parti che parevano sprofondare nell'oblio mentre altre scompaiono perché ormai poco importanti il presente dirige il passato come un direttore d'orchestra i suoi suonatori gli occorrono questi o quei suoni non altri e perciò il passato sembra ora tanto lungo e ora tanto breve risuona o ammutolisce il presente riverbera solo quella parte che è richiamata per illuminarlo o per offuscarlo poi si ricorderà con intensità piuttosto il ricordo dolce e il rimpianto che il nuovo avvenimento essa stette a sentire sorpresa parlava ora di religione della loro religione che aveva ritardato anzi minacciato di impedire la loro unione egli le ricordò che aveva promesso di rispettare e conservare la sua fede con poco rispetto pareva che ormai la sua promessa non avesse più importanza oramai che essi erano vecchi e che ambedue i loro figlioli per la prima volta avevano abbandonato indipendenti la casa paterna parlò della religione la religione addobbava la donna desiderata non attizzava forse il desiderio il tempio di vesta lo ricordi certo essa era stata tolta alla sua solitudine se questo era lo scopo del lungo discorso era stato raggiunto interamente anch'essa sorridendo raccontò a vent'anni lo aveva accolto con una grande speranza quella di convertirlo e sorrise della propria ingenuità era dunque vero che tutto quello che avrebbe dovuto dividerli li aveva riuniti lui le corse dietro per distruggere la legge di vesta e lei lo accolse per fare l'atto di proselitismo cui era stata preparata ma avevano percorso facilmente insieme il loro cammino ecco che ora il figliolo era ateo e la figliola religiosa si rispettavano e viaggiavano insieme poi ebbe una parola che gli ricercò e volle per abbellire il proprio discorso ma che fu meno dolce a teresa eternamente forse la mitologia resterà la sorte della donna poi accorgendoci di averla ferita cercò il balsamo c'era la morte a questo mondo e solo i forti potevano affrontarla per le donne la lotta era priva di speranza se la religione non le soccorreva è vero disse lei convinta della propria debolezza e poi piena di commozione fece per la prima volta la confessione come l'era stato possibile di vivere senza spavento accanto a lui ateo io pregai sempre anche per te soprattutto per te e adesso ho da pregare di più ancora per te e per il nostro figliolo che non vuol pregare egli scherzò perciò il lunedì quasi sempre ho mal di testa ricordi la domenica addio la mia esistenza ed egli si ricorda di mandarmi la punizione che merito essa non protestò ma girò ancora una volta la vite dell'elettricità per avere maggior luce ed egli volle mostrarle che anche lui a modo suo aveva pensato a lei era per lei che egli costantemente si preparava alla morte era presumibile che egli l'avrebbe preceduta doveva servirle ad esempio non sempre la religione serviva a dare coraggio le raccontò del grande poeta spagnolo uomo più religioso che mai avesse maneggiata la penna come per morire avesse pianto e pregato per interi otto giorni e avesse convertito in altrettanto tante cappelle tutte le stanze del suo palazzo e non mica per morire tranquillo ma tentando di mutare il destino e continuare a vivere perciò anche al religioso occorre l'esempio del coraggio e della rassegnazione e alla prova per quel momento egli si era sempre dedicato ogni giorno e quando essa si sorprese nell'apprendere che egli anche nella salute più perfetta avesse pensato alla morte egli esclamò ma se è proprio quello il momento di pensare alla morte perché il pensiero della morte deve essere quello dell'uomo sano vivo e forte doveva essere quel pensiero non malato e si confessò ancora bisognava dire di cose importanti ed egli pur di distrarla denudò l'animo suo e proprio quella parte che anche accanto a lei aveva tenuta celata per sì lungo tempo strano non è vero che io ti sia apparso tanto lieto sempre e che pure di sotto a quella lietezza ti sia stato sempre il pensiero della morte forse era anzi da essa che io traevo il mio sorriso voglio dire che quando arrivavo a sorridere di lui potevo poi sorridere di tutto non si poteva vivere senza pensare alla fine la natura dell'uomo lo esigeva il pensiero della morte era quello che agli altri forniva la religione in lui non si era evoluto era rimasta una religione accettata e conservata come perfettamente corrispondente ad ogni bisogno non occorreva il cielo per divenire buoni e misericordiosi il pensiero della morte mitigava tutto l'ardore della vita per la vita si mitigava nella decisione di prepararsi alla morte anche la sconfitta in quella luce si faceva insignificante ma non era questo che io volevo io volevo proprio prepararmi alla morte per te per me per tutti niente mi pare mai tanto compassionevole o ridicolo quanto i movimenti scomposti dell'animale quando il coltello del macellaio lo raggiunge e sebbe un brivido quando avviene quel momento è proprio un momento privo di importanza un prossimo futuro più importante incombe su di noi come si potrebbe riguardare come importante il breve dolore che allora può afflizzersi egli cortesemente a noi è vero dopo viene dell'altro e dura a lungo riparlarono d'altro ritornarono ai figliuoli che erano ormai lontani ma perché avevano parlato della morte tutto parve loro ora più vicino e quando andarono a coricarsi egli la baciò in fronte e la strinse a sé come se avesse cercato di imitare nel gesto l'amore che tanto prima gli aveva indotti a legarsi per la vita una cosa dolcissima tanto più dolce che quando l'istinto aveva inventato quel gesto poi prima di addormentarsi egli pensò la morte non minaccia me io sono forte come sopporterà lei la mia morte come sentirà poi l'ulteriore minaccia su di lei saprà imitare la mia rassegnazione ma come potrà lei sentire che nella legge generale non può esserci dolore né spavento il tempo procedette non più velocemente del solito ci si trovava tuttavia nella stessa primavera fattasi un po più calda le suonavano ancora nell'orecchio di teresa le parole che suonavano dolore e che erano servite ad adornare l'ultima loro sera d'amore quando vide il marito inchiodato dalla malattia nel letto una malattia che era capitata fulminea con un lungo brivido per conformarsi al suo proposito roberto tentò di convertire il brivido in una risata pare un solletico disse questo suo sforzo non arrivò che a rendere più tragica la grave minaccia il dottor paoli subito chiamato parve da prima tranquillo sempre però ammonendo con aspra ironia sul proprio sapere e potere che egli ne avrebbe saputo di più quando la malattia avrebbe avuto il tempo di dire di più le torture della febbre furono sopportate facilmente da roberto una sola volta dopo di essere stato lungamente silenzioso disse alla persona che stava accanto al suo letto e che era veramente giovanna la loro vecchia cameriera tu veramente avresti avuto ancora bisogno di me e quando giovanna riferì tali parole a teresa a questa parve che il loro senso fosse mitigato dalla prova che se stesse fornivano per essere destinati a lei e pervenute alla cameriera dalla grande febbre che turbava quel cervello nessuno alla morte aveva ancora pensato se non ci fosse stata la febbre essa avrebbe pensato che tutto quello che gli aveva detto fosse poco pensato mancasse di vigore se lo spavento precedeva il pericolo allora lo spavento era più vero persino del proprio che sa sapeva grande e di cui talvolta si preparava con mitra assegnazione poi la febbre diminui ed egli alla morte più non pensò credette più fermamente nel termometro che nella propria tortura l'affanno e il dolore quella sera teresa cominciò lei a tremare era la mezzanotte e le due domestiche già dormivano dovette lei accompagnare il dottore alla porta qui il dottore un uomo circa quarantenne grave un po pesante si fermò era imbarazzato davanti all'ammalato aveva parlato in un modo e sarà addirittura congratulato di aver trovato la febbre diminuita ora con la moglie egli doveva parlare altrimenti avvisarla che egli aveva saputo mentire ma doveva mentire ancora il suo corpo pesante sarà ancora appesantito per l'esitazione della parola che doveva rivelare una parte della verità e non tutta poi in medicina c'erano tutte le prospettive ed egli diffidava di quelle che ora gli si presentavano si andava forse incontro ad una di quelle forme che si prolungano ostinate perché più lievi fino alla morte o a una di quelle guarigioni imperfette che trasformano tutto il resto della vita in quella di un condannato a termine oppure si poteva sperare ancora in una crisi oppure in uno sconvolgimento più mite che pur tuttavia conducesse ad una guarigione intera il misterioso cuore umano fino all'ultimo momento non diceva tutte le sue possibilità l'organo che apparentemente non conosceva il riposo pur si riaveva dalla più forte depressione il dottore si mosse per andarsene imbarazzato e dalle cose misteriose e dalle parole che rivolte a quella povera signora non potevano servire a chiarire il pensiero di persona che sapeva molto ma soprattutto di non sapere abbastanza cercò di andarsene dopo aver ripetuto certe raccomandazioni ma la signora avrebbe voluto avere l'intera verità o da richiamare telegraficamente i figlioli e guardò ansiosamente quelle labbra cui ella voleva strappare il verdetto ma il dottore girò su se stesso lentamente per guardare meglio in faccia la signora o forse per guadagnare del tempo prima di parlare tante erano le possibili prospettive a quale doveva afferrarsi intravide la propria salvezza il pericolo maggiore stava precisamente nella minaccia della malattia lunga perché telegrafare il modo più odioso di dare una cattiva notizia ma non volle rasserenare troppo la signora scrivere si poteva intanto tenerli preparati a peggiori notizie oppure mettere le cose in modo che gli aspetti fra pochi giorni una grande gioia si sentire assicurato anche lui come se le probabilità buone si fossero accresciute pote anche pensare più chiaramente alle necessità dell'ora domani disse penseremo di assumere un'infermiera ella non può continuare a vivere così se la cosa accenna ad allungarsi tanto e lei lo lasciò andare inerte perché non sapeva staccare il pensiero dall'indagine sulle parole che gli aveva dette prima l'ultima parola del dottore telefonerò domattina prima di andare all'ospitale raggiunse il suo orecchio come un'ulteriore conferma della gravità dell'ora lentamente essa spense la luce elettrica alla porta la riaccese nel corridoio per passarlo sicuramente procedette sempre esitante e dopo aver afferrato la maniglia della porta aperta la quale avrebbe rivisto il marito per la prima volta dopo che lo sapeva sottoposto a tale dura imminente minazza la lasciò ancora una volta per ritornare alla chiave più vicina della luce elettrica e rifare l'oscurità nel corridoio non era completa l'oscurità era diminuita da un lieve bagliore che veniva dalla stanza dell'ammalato essa non subito si mosse nell'oscurità pregò eppure essa sapeva che era di una meschinità incomparabile intinocchiarsi per domandare degli interventi miracolosi il marito aveva tutelato la sua religione come aveva saputo ma non aveva potuto farlo abbastanza bene ma la scienza si era allontanata da lei in quel momento e teresa si ritrovava con la propria religione o almeno il suo atteggiamento e quando essa giunse al letto dell'ammalato si sentì più sicura la preghiera le aveva data la forza di corrispondere interamente al suo ufficio era pronta anche alla simulazione la vasta stanza era scarsamente illuminata da una piccola lampada sul tavolo da notte che divideva i due grandi letti matrimoniali la poca luce era più intensa sul letto dell'ammalato che giaceva sul fianco le braccia tese rigidamente le mani congiunte così allontanate come se egli avesse voluto salvare una parte del proprio corpo da tanta angoscia anche la testa sul guanciale si era spostata per indietro quasi perpendicolare alla schiena vedendola seppe abbandonare lo sforzo l'aveva attesa soffrendo e per un attimo gli parve che poterle parlare significasse interrompere l'angoscia che ti disse il dottore domandò facendo finalmente un movimento che non fosse imposto dall'affanno o dal dolore ma per vederla meglio la cara figura dell'affetto era personificata dal suo e dal proprio affetto e la penombra bianca e bionda pareva trasparente oh sì un vero sollievo nulla di speciale disse teresa dandoci da fare a drizzare il proprio letto eppure ti trattenne a lungo o forse son io cui pare che i minuti siano ore guardò l'orologio no no menti teresa avevo dimenticato di lasciar fuori il caffè per domattina e dovetti andare in cucina il malato non insistette il suo respiro era cerere solo dopo ogni suo movimento che implicasse uno sforzo coricati disse alla moglie farò del mio meglio per lasciarti tranquilla è il momento di intensificare il mio esercizio e la finse di non aver udito tali parole si sentiva salire alla gola dei singhiozzi e non sarebbe stato possibile di trattenerli se avesse voluto rimproverargli le disse semplicemente e assumendo un'aria di distrazione non ho sonno vuoi che ti legga il giornale neppure lui non ripete quelle parole pentito di averle dette era un modo di torturarla anche quello di ricordare il proprio proposito rispose dolcemente vorrai che tu subito ti adagiassi per dormire chissà forse sarà costretto di destarti e tutto quello che puoi guadagnare di sonno è un beneficio per te ed egli ebbe anche lo svago di poter rivedere se sul tavolo di notte ci fosse a portata di mano tutto ciò di cui poteva bisognare il tempo andava via non riempito di sola angoscia e fu molto bravo roberto quella notte teresa dapprima tenne gli occhi aperti senza sforzo e saltava su all'ogni movimento del marito ma egli riuscì ad immobilizzarsi quando voleva muoversi trovava un sollievo nella stessa propria resistenza e diceva con risoluzione al male che gli aveva personificato in una persona che gli stesse accanto tanto immobile da non potersi ritenere che sa il male producesse ma di questo godesse guarda guarda come sono superiore io che soffro a te che godi lungamente finché molto tardi il respiro della moglie lo avvisò che stasera addormentata sì essa sarà addormentata dapprima aveva tenuta a destra la paura che le preoccupazioni del dottore fossero giuste e la speranza che se fossero sbagliate che cosa sapevano i medici la malattia forse non l'organismo però l'organismo di ogni singolo ricordò certi insegnamenti di roberto i uomini avevano tutti gli stessi organi e con quegli stessi organi componevano ognuno di essi un organismo originalissimo che mai prima era esistito perché roberto non poteva guarire per la via che gli ora batteva la diminuzione di febbre se il suo organismo fosse fatto così questa era la scienza non fatta per lei non ora non ora supplicò se pareva un delitto che gli ora dovesse sparire credeva di domandare poco solo un rinvio e sarebbe stato accordato certo ed essa trovò la pace che aveva domandata per lui la finestra si rese visibile all'inizio dell'alba roberto arrivò a vederla con gioia il tempo non era fermo poi anche lui trovò inaspettatamente un grande riposo non vide più la finestra non la stanza non sentì più se stesso quando ci ripensò non gli parve fosse stato il sonno perché il sonno era tutt'altra cosa l'angoscia continuava ma lui era stato privato dello sforzo di sottrarvisi è un grande riposo quello d'essere privato della possibilità di uno sforzo era tutto suo senza resistenza gli parve di assistere alle avventure più angosciose della vita avventure losche di cui non servò ricordo perché non arrivarono neppure alla consapevolezza del sogno l'angoscia si era tramutata in visioni di mostri o di catastrofi o di mostri che stavano per giungere o di catastrofi che si preparavano qualche cosa che non ricordava ma che si intonava al quadro della vita come egli allora la sentiva quando ritornò in sé il giorno era pieno si sentiva debole coperto di sudore nella stanza c'era molto movimento o a lui parve la serva uscì e rientrò più volte il dottore sedeva sul suo letto una siringa in mano la moglie era anche attiva su qualche cosa al tavolo il dottore vedendo chi apriva gli occhi gli sorrise il benvenuto si sente meglio era dolce augurio una grande benevolenza ed egli salutò il ritorno alla vita dalle forme cortesi con un sorriso se sto bene perfettamente il dottore lo guardò dubbioso gli pareva che la risposta non provasse che l'ammalato fosse compos sui teresa mise la testa sul guanciale dell'ammalato tu non sai mormorò è stata la crisi la crisi benefica che è sopravvenuta quando non la si sperava più ora è finito tutto ora soltanto essa piangeva l'ammalato respirò profondamente sì così da molti giorni non aveva respirato l'ammissione dell'ossigeno in grande quantità è un grande beneficio si sentì libero non pensò per un solo momento che ora da uomo forte sarebbe stato il suo dovere di ricordare che arrivava alla convalescenza solo per prepararsi alla prossima futura malattia in certo modo i dolori finora sofferti erano stati privi di scopo la convalescenza fra tutte le fortune la più seducente i mostri della notte erano spariti stava accanto al suo letto l'uomo potente che l'aveva salvato col suo occhio penetrante e benevolo col suo orecchio acuto la sua siringa che iniettava direttamente nel sangue quello che occorreva per ridargli la forza la vita e dall'altra parte sorvegliava teresa con suo vigile affetto sempre uguale sicuro poco dopo teresa era di nuovo alla porta accanto al dottore da buon sanitario egli rispecchiava anche nei suoi movimenti il miglioramento dell'ammalato pareva meno imbarazzato più tranquillo anche lui era appoggiato allo stipite della porta e guardava attraverso le grandi lenti dei suoi occhiali gli occhi della signora che invece guardava le sue labbra ammirò se stesso come abbiamo fatto bene di non richiamare i figliuoli poi esitante attenuò la nuova non è finita ancora ma quasi e vedendo che ciò bastava per offuscare la faccia della signora trovò il modo di rinnovarle la gioia ricordandole in quale disposizione d'animo egli l'avesse lasciata il giorno prima iersera non avrai data una pipa di tabacco per la sua vita oggi è tutt'altra cosa penso ancora poi abbandonò lo stipite e si raddrizzò prima di porzarle la mano per salutarla resterai volentieri ancora qui e per un momento il suo corpo pesante si fece pesante si torse come se la sua grossa pancia fosse stata parte di un serpe privo di gambe ma debbo affrettarmi e se ne andò essa restò a seguirlo con l'occhio vide chiaramente che a un certo momento si arrestò con una gamba in aria esitante a calarsi e raggiungere il prossimo scalino ma poi più deciso procedette oltre e scomparve avrebbe forse voluto dirle qualche cosa d'altro non volle pensarci più ma come si avviò alla stanza dell'ammalato la sua immagine la inseguì la vedeva come si era mossa nelle ultime ore ora l'aveva incoraggiata ed ora spaventata anche adesso nel momento in cui sembrava che fosse arrivato alla speranza anzi quasi all'intera tranquillità si teneva un piccolo spazio libero per ballonzolare fra l'ottimismo e il timore e se ancora non aveva ringraziato per l'esaudimento della sua preghiera lo fece nel breve spazio di tempo che le occorse per percorrere il corridoio non rallentò il suo passo per poter dedicare più tempo alla preghiera pensò si prega benissimo anche accanto a lui e sorrise maliziosamente era un modo di tradirlo roberto giaceva tuttavia esausto la respirazione sua era ormai libera il dottore gli aveva gridato nelle orecchie ecco che arriva la perfetta euforia la parola strana sarà confitta nel suo orecchio e lui la carezzava proprio come essa carezzava lui sentiva anche tale euforia la respirazione è una delle principali attività del nostro organismo e riaverla intera è una grande prestazione avrebbe potuto dormire senza la compagnia di mostri e di catastrofi quando vide rientrare la moglie le sorrise questa volta disse non ci fu bravura da parte mia tutto compreso fu una cosa poco dolorosa qualche cosa m'opprimeva ma il buono era che non c'era la possibilità di protestare tutto il mondo sarà convertito in oppressione perciò era il mio torto se mi ci trovavo non restava da far altro che adagiarsi nell'oppressione essa non seppe che dire ogni sua parola la commoveva se il dottore non avesse esitato prima di staccarsi da lei essa si sarebbe sentita più leggera così invece e sembrava che anche lui lo sapesse la sua parola era perciò tuttavia di sembrava dormisse più volte la signora lo guardò e senza muoversi ritornò al suo libro non dormi disse una volta vedendo che con gli occhi spalancati guardava le unghie di una mano posta sul guanciale la piccola distanza dalla faccia e gli volse a lei la faccia pallidissima coperta da un lieve sudore non so che mi sia ma soffro molto passerà e parme volesse tranquillarla poi saltò dal letto scusami disse da quella malato ben educato da anni di preparazione ma non posso stare in letto ed essa non dimenticò più questa strana parola indice evidente che la lunga preparazione aveva lasciato nel suo animo delle tracce indelebili anche in quel momento di malato ben educato ora appena avvicinata la testa alla finestra succhiusa essa la vide scomposta da uno sberleffo di dolore che vi si formava e spariva per riformarvisi pareva il riflesso di attacchi di dolore che seguivano uno subito dopo l'altro essa pensò che così probabilmente avesse risposto l'atteggiamento della faccia dei torturati all'applicazione ripetuta sulla carne del ferro incandescente si abbandonò sulla poltrona ov'essa era stata seduta fino a quel momento la parola tanto strana in quel momento si ripete scusami aveva la sola camicia la sera prima si era sentito oppresso dal pigiama e l'aveva smesso le sue gambe tuttavia giovani moderatamente muscolose meglio colorite della sua faccia tremavano il piede destro restò eretto contorto poggiato sul solo alluce un irrigidimento dovuto al dolore la respirazione non pareva impedita ma talvolta s'accelerò teresa non indovinò subito un caso un assalto di nervi ma non una minaccia domandò vuoi che chiami il dottore egli allora parlò e fu una cosa pietosa ma che essa non intese che più tardi ricordandola la parola mentre l'orrendo dolore imperversava sul suo corpo era quella dettata dal suo proposito eroico stava morta accanto al dolore vivo attivo che gli si sforzava di lasciare imperversare su di lui senza ascoltarlo perché vuoi perdere quest'ultimo breve lasso di tempo che ci ha lasciato ci fu una pausa dovuta ad uno sberleffo violento imposto dal dolore e che si estese dalla faccia a tutto il corpo essa intanto solo per fare qualche cosa che fosse più assennata del grande dolore e anche di quelle parole gli coperse le gambe con una coperta e subito ne cercò un'altra per coprirgli il busto avrai preso freddo murmurò quando è ricoperto di tanto sudore il caldo e il freddo non hanno importanza disse egli la morte ha importanza da morte tanto vicina ed è il momento di ricordare la vita la vita che io voglio continui per te dolce e serena come se io non ci fossi mai stato e come ho da fare giro l'occhio vago come se avesse cercato di ricordare ma anche quello sforzo era interrotto dallo sberleffo cui era costretto non pensai tutto quando questo dolore non c'era e feci male ma so ancora dirti che anche tutto ciò non ha importanza questo che doveva avvenire prima o poi quale tortura teresa corse al campanello perché disse lui ancora resta tranquilla con me a guardarmi e ad apprendere si adagiò sullo schienale della poltrona improvvisamente il dolore era cessato cessò senza esitazione si ritirò e andò via la morte non era venuta ed egli guardò intorno a sé privo di dolore e privo di eroismo i suoi denti battevano ancora ma il dolore era veramente sparito come alla mattina l'affanno le sue parole eroiche miseramente assumevano l'aspetto di una vanteria potte accorgersi subito che teresa non pensava così perché per lei finito il dolore restò lo spavento nient'altro un grande spavento lo aiutò a curicarsi poi volle la cameriera con sé poi si allontanò per andare al telefono e rapidamente decisa senza consultare nessuno telegrafò ai figliuoli di ritornare a casa quando rientrò nella stanza piena di spavento fu dapprima tranquillizzata sentendola venire nel letto dove egli non trovava pace si rizzò sedette ed essa lo vedette nella luce del raggio di sole che ormai quasi rasentava il letto trasalì aveva la fisionomia mutata le palpebre gonfie minazzavano di chiudere l'occhio era pallido la faccia coperta da un lieve sudore non sapeva guardarla il suo sguardo la cercava e la trovava forse dove non era come se l'istrumento visivo si fosse in lui mutato e non dovesse rivolgersi all'oggetto che voleva vedere ma le parole gli fluirono libere dalla bocca abbondanti quella errate per errori di cui sembrava non si accorgesse dapprima essa gli impedì di parlare e forse a lui dicendogli soffri il dottore sarà qui fra pochi istanti non è di lui che ha bisogno disse roberto chiaramente perché io non soffro io non soffro affatto soffro solo per ricordo di quanto soffersi poco fa durante quell'ora infernale essa sapeva che ascoltava le ultime parole di un moribondo e interrotte spezzate tuttavia furono per lei intellegibili egli non parlò del dolore sofferto durante tutta quell'ora egli aveva saputo resistere e parlare come se la sua vita fosse continuata come prima non era più la vita invece era una segregazione fra le pareti create dal dolore e il dolore era il trionfo di qualcuno di qualcuno che gioiva della sua giustizia parlò di un suono di campana trionfale che l'accompagnava e lui sentì che la sua colpa meritava tanto odio tutta la sua vita era stata una colpa una grande lunga colpa di cui ora voleva pentirsi fece anche con le labbra un'imitazione ingenua del suono della campana bisognava ascoltare quel suono e le minacce essa doveva averle sentite mentre lui per un'ora intera aveva rifiutato di darvi ascolto ma ora che non risuonavano più avrebbe voluto riudirle per ascoltarlo e intenderlo ancora meglio le sue ultime parole già irrorate da lacrime furono io non sapevo poi si abbandonò riverso tutto in pianto fu un pianto violento che gli tolse il respiro come avviene ad un bambino castigato ingiustamente o anche per una ingiustizia evidente anche a lui parve che il pianto avesse impedita la sua parola le lacrime furono interrotte dal singhiozzo violentissimo e si associò presto ad un suono strano che a teresa da prima parve ancora più infantile del singhiozzo era il rantolo poco dopo la morte di roberto teresa ritornò a quel letto ecco che egli irrigidito appariva forte e sereno come un soldato che rispondesse all'appello e lei per cui la morte non finiva nulla pensò cercando una consolazione a tanto strazio ecco che prendi la tua rivincita come sei bravo la sua morte fu proprio quello che egli non aveva voluto lo spavento l'associazione tanto intima di due persone d'indole tanto differente per quanto mitigata dal desiderio e dal rispetto deve finire con l'impartirle la fisionomia di uno dei due associati quella di teresa e di roberto portava alle linee della faccia di roberto teresa indisturbata aveva continuate le sue pratiche religiose ma le era sembrato che il loro stesso contratto dovesse imporre anche a lei la stessa riserva di cui egli si vantava come di una manifestazione di affetto e la sua religione si era privata del suo maggiore eroismo il proselitismo chiuse nel suo petto quella religione sarà immiserita isterilita forse dall'altro canto anche quella di roberto aveva perduto ogni nobiltà mancandole la chiara intelligente manifestazione e per lungo tempo teresa esitante considerò l'orrore di quella morte egli aveva riconosciuta una colpa quale colpa la sua irreligiosità ed essa pensò che egli all'ultimo momento si fosse convertito tutto quello che restò di roberto sulla terra cioè nel cuore di teresa si convertì silenziosamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti